Forse non tutti sanno che il compositore dell'inno alla gioia, l'inno europeo e il compositore della Quinta Sinfonia e della famosissima Perelisa Beethoven purtroppo nella sua vita ebbe un grave problema di salute che lo rese sordo Alcuni critici molto cattivi affermavano che lui realizzasse le sue dissonanze a causa dei suoi problemi di salute Grazie per la visione!